Dai, dai! Dai, dai! Rauh, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! 40-0 40-0 15-3 15-0 15-0 15-0 15-0 Buona, buona, buona! Buona, 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 buona! Buona, 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 buona! anche che è una bella aria grande 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 Andrea in Italia addosso dai profondi porta occhio all'aria dai ricordi ora un colto venire igli 15 per parte Porta, corta Nico, occhio, occhio 30 solferino, 15 metole Porta, corta Nico, occhio Porta, corta Nico, occhio, occhio Porta, corta Nico, occhio, occhio, occhio Porta, corta Nico, occhio, occhio, occhio 30 per parte Seconda Porta, corta Nico, occhio, occhio, occhio Porta, corta Nico, occhio, 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 occhio Grazie a tutti. 30-40. 10-40. 5-40. 5-40. 5-40. 5-40. 10-40. Grazie. 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 Vai Vicky. Vai Vicky. Vai Vicky. 30 medale. 30 medale. Vai Vicky. 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 15.30 15.30 15.40 Minuto che sono sul farino 15.30 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 15.30 Minuto che sono sul farino 15.30 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cambiare le file del Solferino, entra il 5 e esce il numero 6. Seconda palla. Grazie a tutti. 30 per parte. Grazie a tutti. 40 medone e 30 sul Solferino. Grazie a tutti. Giochi, 12 medone e 8 sul Solferino. Pallina in battuta. 15 sul Solferino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seconda palla. Grazie a tutti. Palina in battuta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 30 per parte. 30 per parte. 40 per parte. 40 medone e 30 sul Solferino. Minuto. 60 per parte. 60 per parte. 60 per parte. 60 per parte. frittura di pesce. Frittura di pesce. Frittura mista. Frittura mista. Frittura mista. Frittura mista. si riprende il gioco sul 40 medole 30 sul ferino seconda seconda giochi e partita se la giudica il medole 13 a 8 si ricorda agli spettatori di uscire dal campo si conclude il primo quarto di finale di serie A Open 2015 vince la medolese contro il solferino per 13-8 ricordiamo che a seguire si svolgerà il secondo incontro di quarto di finale questa sera a partire dalle ore 21 incontro tra il Cavaglion Monte e la Virtus Guidi Solo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti